il secondo episodio era il febbraio del 75 c'era da fare un volo quella volta era non erano voli prova ma erano chiamati voli officina più o meno superato la revisione alla revisione tecnica ed era stato messo in linea doveva essere fatto il volo prova il volo prova consisteva in andare nella zona denominata r61 per quanto riguarda alcune prove di volo manovrabilità e cosette cosette del genere cose normali comunque per poterle verificare dopodiché era prevista la salita sempre a 40 mila piedi perché bisognava raggiungere la velocità di mac 222 e guardare come se vedere come si comportava il il velivolo ho cominciato alla salita verso i 40 mila piedi non so che porta fosse arrivato so che ero avrà avuto un 30 gradi sull'orizzonte per più o meno salivo verso come ho detto verso i 40 mila piedi quando il velivolo a un certo momento ha abbassato di colpo l'ala destra come se volesse fare un tonno a quel punto cercato di contrastarlo con una piedi contrario close eccetera ma non ne ha voluto sapere ho provato manovrare anche a dare motore a togliere motore mentre cercava di contrastare questa cosa diminuendo aumentando la velocità ma non c'è stato verso e pian piano il velivolo da quella dalla posizione verso ovest si è rigirato nella posizione verso est però in perpendicolare era perpendicolare verso il suolo e andava giù così e faceva un movimento strano di roll e faceva così rollava a destra e a sinistra e il muso faceva il pendolo ho provato a cambiare la configurazione esterna del velivolo con i flap il carrello e gli aerofreni però non c'è stato verso quando ho visto che il terreno mi veniva avanti troppo ero senza aveva ridotto il motore naturalmente quel punto però al minimo non l'avevo spento perché non si sa mai poteva sempre capitare che sto velivolo decidesse di riprendersi sennò che ho visto il terreno che si avvicinava troppo velocemente e mi sono lanciato il paracadute si è aperto sotto il livello del suolo per cui avrei però ho avuto la fortuna grandissima di beccare un cannalone di displuvio che lì sulla nella zona di matera dove è successo l'incidente di l'incidente il canalone di spurtro di di fluvio era molto profondo sono caduto lì però anche era molto inclinato verso il basso praticamente ho visto che ho avuto modo di sistemarmi un po per la per poter atterrare con minori danni possibili e sono arrivato praticamente data l'inclinazione del terreno con solo solo sulla gamba destra e ho fatto anche una mezza pirouette per evitare che il pacco di sopravvivenza che ho ancora attaccato che non aveva avuto modo di sganciare perché perché quando mi sono lanciato subito dopo subito dopo ho toccato terra quindi ho fatto una mezza mezzo movimento così e il pacco e lui è andato verso destra e io un po verso sinistra però mi ha colpito di striscio il perone della gamba destra rompendolo sono mi ero messo lì così mi sono ripreso pian piano mi sono staccato dal paracadute dal resto perché era un peso di troppo e avevo le gambe divaricate ho alzato la gamba sinistra e lo messa piegata ho fatto la stessa cosa con la gamba destra se no nel momento se non che nel momento in cui l'ho alzata il piede ho visto che ha fatto così se ne andato senza poterlo contrastare senza niente è andato giù senza farmi male se non mi dava fastidio però ho visto andare così ho fatto la prova due tre volte per vedere se effettivamente era così ed era così ho detto si sarà rotto e allora con un piede solo e rinculando sono ho salito la china fino al piano oro sovrastante la posizione mia era nella parte in discesa io ero seduto qui e di fronte a me da sull'altro versante del del canalone c'era di fronte a me praticamente il martin baker il seggiolino e mi hanno detto dopo che lì sopra avendo cambiato configurazione al velivolo lanciandomi questa aveva pensato bene di atterrare da solo questo mi hanno detto e questo ripeto ma non ho verificato praticamente ha fatto un attellaggio spezzandosi in tre tronconi ma rimanendo grossolanamente intero quando sono arrivato sopra sono arrivati nel frattempo avevo avvertito con la radiolina di emergenza la base e loro dopo 20 minuti da cui avevano sentito il segnale ma il segnale era debole perché io stavo nel canalone quindi nella direzione delle onde era cono verso l'alto con una poca con poca visibilità verso la base diciamo per cui il segnale che era arrivato non era molto forte hanno atteso circa 20 minuti perché più o meno era la durata del volo prova dopodiché hanno dato l'allarme al soccorso e io mi sono messo lì ad aspettare perché non potevo fare altro visto che non potevo camminare e fare niente a questo punto è arrivata nella ricordo ancora sono arrivate delle persone due su una ms o prince non so se ricorda quella scatoletta di metallo che era una scatoletta da scarpe con un altro pezzo di scatoletta sopra e a tutti i costi mi volevano accompagnare in ospedale e io ho guardato la macchina ho detto ma è quella è la vostra macchina sì allora ho detto guarda non offendetevi ho detto ma sento quello dentro quella macchina non so se posso uscirne perché non sapevo perché a caldo così non è che uno sente molto il dolore io infatti il dolore alla gamba non sentivo per niente ma se ciò qualcos'altro di rotto non so che cosa può succedere e allora adesso mi hanno tenuto compagnia dopo un quarto d'ora o venti minuti circa è arrivato l'elicottero da grottaglie quale mi ha prelevato mi ha portato in aeroporto dopodiché con l'ambulanza sono stato accompagnato in ospedale ad acqua viva a quel punto ad acqua viva diciamo che ho avuto anche di un po di fortuna perché ho incontrato un ortopedico che aveva appena era appena rientrato dagli stati uniti dove ha fatto un corso su di sulle ricomposizioni delle micro fratture io non avevo micro fratture però aveva una frattura e me l'ha detta questo questo medico però non so se sia vero era cosiddetta frattura dello sciatore di una volta quando gli scarponi lasciano erano attaccati ad un sistema che era abbastanza rigido e non permetteva di sganciarsi per cui quando uno per caso si piantava su un cumulo di neve correva il rischio di spezzarsi le gambe più o meno come me l'ero spezzata io così mi ha detto dicevo che il medico sono stato formato a trovare questo medico che era appena patentato diciamo in operazioni del genere il quale dopo due giorni o tre giorni che hanno tenuto lì in osservazione mi ha operato diciamo che è andato tutto tutto bene le viti di metallo di titanio e la stecca di titanio che mi è stata messa per ricomporre le varie fratture che si erano create all'altezza della caviglia più o meno i malleoli il perone il tibiano e il perone comportato la questa ricomposizione del con l'aggiunta di una stecca metallica sempre di titanio forata come le asticciole quelle del meccano di una volta dove dove le viti si potevano mettere dove dove si voleva tagliare a misura la stecca dopo che altre viti per fissare le altre parti rotte mi sono ripreso abbastanza in fretta e nel alla fine del 75 ho cambiato mestiere praticamente su passato dal monoposto al biposto e quindi sono sono venuto qui pratica di mare al gruppo che volava sul piaggio 808 e sono rimasto lì ho fatto il capo ufficio operazioni per un po di tempo per un anno è qualcosa e poi ho comandato il gruppo alla fine sono rientrato sono andato allo stato maggiore che era il percorso di tutti quelli che più o meno avevano concluso la loro carriera di piloti cominciava la carriera della scrivania e quindi è finito è finito così anche questa esperienza è andata bene la posso raccontare la sto raccontando a voi anzi l'ho raccontata a voi normalmente non non ha raccontato quasi a nessuno questa cosa perché io sono un po schifo per quanto riguarda espormi così ha presso presso gli altri che poi cominciano fare le domande di tutti i generi poi potevi fare questo si innesca un discorso che non ci chiude mai allora io tralascio per cui per cui e questa è la seconda esperienza link mentre ero al settantunesimo gruppo ho avuto l'occasione di fare anche il dc3 è il c119 e quindi in totale ho fatto una quindicina di villi di velivoli con compreso l'aliante che era il canguro non so se ha mai avuto modo di vederlo ma era un aliante ha fatto tutto di legno ancora del 1940 50 un velivolo molto molto anziano per quanto riguarda e per fortuna che i tarli lì non avevano attecchito perché altrimenti era un bel bel aliante eccetera però ho avuto anche un'esperienza mancata nel senso che per fare quella volta la transizione su una macchina nuova più o meno c'era una regola penso comune in giro per il mondo erano previsti sei voli di transizione il cui l'ultimo volo era un decollo e ho fatto il phantom fino alla quinta missione assieme agli altri miei colleghi che erano lì se non che c'è stato un incidente gli americani come al solito hanno bloccato tutti i phantom per capire che cosa poteva essere successo e quindi siamo stati bloccati anche noi e quella volta eravamo lì noi con le f 104 e loro con i phantom grazie a tutti